Buon sabato a tutti e bentornati su Mindchart. In questa situazione abbastanza incerta dove il prezzo di bitcoin rimane ancora all'incirca verso i 59.000 e cerca di rompere la 200 ema giornaliera e ritorna indietro. Diciamo che rimane in un limbo. In questa fase di noia ho trovato un grafico molto interessante e se tutto ciò dovrebbe avvenire come in precedenza con il crollo del covid secondo me non siamo messi per niente male ovviamente non è detto quindi andremo a vedere questo grafico importante e poi andremo a parlare di quello che è successo durante la settimana e andremo a fare un po' di analisi tecnica per quanto riguarda le nostre benedette alcoin che non vogliono ancora salire non c'è ancora una vera alcoin season molti dicono che non c'è mai stata. In 2021 le meme coin erano le ultime a salire adesso salgono solo le meme e qualche altro nome tutto il resto dimenticato le year 1 le year 2 perché bitcoin prende tutta la dominanza dell'elcoin ma non entrano nuovi capitali e questo è il problema bitcoin prende la dominanza e la toglie l'elcoin infatti la bitcoin dominance è alle stelle prima o poi secondo me troveremo un top ma poi andremo a vederlo andiamo subito a vedere dati importanti ma prima che mi dimentico vi ricordo che zumex exchange che ci permette ancora di fare trading senza che usi vi dà 20 dollari 20 usdt prelevabili gratuitamente e inoltre altri 25 usdt di bonus i requisiti fare un deposito minimo di 100 dollari e detenere fondi almeno per due settimane i 20 usdt prelevabili vi verranno ridroppati entro tre giorni e invece il resto dopo due tre settimane e vi ricordo che molti stanno utilizzando questo exchange nella nostra community troverete in ogni modo tutti i link in descrizione cosa andiamo a vedere vediamo questo grafico che secondo me ci dà un po di speranza visto tutto sommato questa noia che abbiamo su bitcoin abbiamo comunque schierati il 50 per cento degli investitori che sono molto impauriti e si pensa a nuovi ribassi quindi nulla toglie bitcoin di andare ancora verso i 50 mila o anche 45 mila ma altri investitori incoraggiano la calma e dicono che i 50 mila sono il bottom e se andiamo a vedere il covid crash del 2020 con il japan stock market crash del 2024 avvenuto qualche tempo fa dove ha portato bitcoin verso i 49 mila vediamo delle similitudini 4 anni di distanza e quindi ci troviamo in una situazione molto simile ovviamente poi qui abbiamo visto la salita di bitcoin in questo caso e siamo andati a rompere questo pattern e qui siamo ancora a ballare tra i 58 e 60 mila dollari se tutto ciò dovesse avvenire si prevede una salita nel prossimo futuro chiaramente il passato non per forza sarà il futuro però è molto interessante vedere questa similitudine che ho trovato online per capire che secondo me ci sono anche dei punti interessanti e ci vorrà ancora pazienza ma anche perché dobbiamo vedere comunque il taglio dei tassi di interesse se porterà comunque maggiori capitali sugli asset risk on e comunque tutte spettano l'appto october perché tenete a mente che agosto e settembre non sono momenti molto buoni per il mercato delle cripto abbiamo già visto questo grafico ve lo ripresento poi chiaramente lo trovate anche online e vedete che comunque agosto e settembre mesi molto negativi per bitcoin invece ottobre uno dei mesi migliori anche con novembre quindi ci vorrà ancora pazienza secondo il mio punto di vista stiamo vedendo bitcoin che sta andando avanti a comprimere e vedete che qui siamo all'interno di un triangolo sul tempo giornaliero quindi ci stiamo comprimendo e quindi potrebbe avvenire una rottura non tra moltissimo e invece andiamo a vedere la bitcoin dominance ancora alle stelle questo va a dettare che bitcoin rimane il padrone indiscusso e poi se andiamo a vedere il resto vediamo che comunque ethereum e molte altre coin stanno andando malissimo ethereum un nome distrutto io detengo ethereum ma sono molto deluso in questo momento ora andiamo a vedere quello che è successo durante la settimana e stiamo vedendo che la comunità delle criptovalute è sempre più preoccupata per la centralizzazione di bitcoin temendo che possa minare i principi che l'hanno reso rivoluzionario come noi lo conosciamo e questo grafico condiviso da bitcoin.com rivela che due pool di mining il foundry usa e hand pool ora controllano lo vediamo qui il 57 per cento dell'ash rate della rete totale di bitcoin e questa concentrazione di potere fa paura poiché potrebbe portare una potenziale censura e un allontanamento dell'etica centralizzata di bitcoin chiaramente questo grafico che ci fa riflettere ed è giusto andarlo a vedere e foundry usa di proprietà di digital currency group si allinea con gli interessi degli stati uniti mentre hand pool è gestito dalla cinese bitman technologies e rappresenta l'influenza cinese fatemi sapere cosa pensate di questa cosa se pensate che potrebbe portare al potenziale censura di bitcoin o no chiaramente staremo un po vedere io non penso che questo porterà una censura però questi dati ci fanno un pochettino riflettere in ogni modo in descrizione fatemi un po sapere cosa ne pensate di questa cosa e fatemi anche sapere un po come vi state comportando con bitcoin ethereum e con le alcoin e quali piani avete nel caso sia saliamo sia scendiamo andiamo a vedere anche altre cose interessanti che ho raccolto per voi e andiamo a parlare del mercato dei real world asset cioè degli asset reali tokenizzati che superato i 10 miliardi di dollari e questa crescita guidata dalla forte domanda di prestiti privati e debito del tesoro USA rappresenta un aumento di 2 miliardi di dollari all'inizio dell'anno quindi un aumento sostanziale infatti noi abbiamo parlato sempre sul canale di reward asset durante tutto 2023 parliamo anche di hamster combat che sta facendo parlare di sé perché il tge del gioco virale per telegram hamster combat è previsto per il 26 settembre per chi non lo sa hamster combat è un gioco tap to earn su telegram e ha annunciato che il suo token generation event sarebbe il tge e l'air drop si trarranno il 26 settembre considerando che è uno dei più grandi nella storia delle criptovalute questo air drop assegnerà 60 per cento del suo volume ai giocatori mentre il resto verrà utilizzato per andare poi a migliorare la liquidità del mercato e sviluppare l'ecosistema del gioco seguito da 12.6 milioni di persone comunque è un gioco enorme e teniamo a mente che l'air drop era inizialmente previsto per luglio ma è stato posticipato a causa di sfide operative e teniamo a mente che da allora il team di hamster combat ha lavorato a stretto contatto con l'ecosistema ton per garantire un evento senza intoppi e infatti i principali exchange come bitcat, buybit, getyo e kucoin hanno già quotato il token per il trading premercato suscitando un notevole interesse prima del tge quindi questo è un progetto molto interessante da prestare molta molta attenzione ora andiamo a parlare di ton che è stato sulla bocca di tutti questa settimana perché la blockchain di ton ha affrontato notevoli sfide tecniche causando molteplici introduzioni infatti il 27 agosto qualche giorno fa la rete ha smesso di produrre blocchi per circa sette ore e poi ripreso le normali operazioni il giorno successivo e queste introduzioni sono state attribuite a una flusso travolgente di transazioni relative alla meme coin dox che è stata appena lanciata e poi andremo a parlarne e chiaramente il team di ton sta lavorando per non far succedere più queste cose e tenete a mente che quando poi il CEO di telegram Pavel Durov è stato rilasciato sotto cauzione una cauzione di milioni di dollari ovviamente non è che sono cadute le accuse ha pagato 5 10 milioni adesso non ricordo bene ton era salito del 10 15 per cento ora ancora risceso quindi abbiamo avuto un po di volatilità che succede ton so che molti di voi hanno ton andiamo a vederlo sul time frame settimanale per fare comunque una panoramica un pochettino più grande e vediamo che comunque si trova su supporti molto importanti poi direttamente che qua abbiamo avuto un pump ma non abbiamo costruzione di prezzo quindi non si trova in una situazione molto molto favorevole perché sotto i 4.7 non c'è nulla fino a due e mezzo quindi attenzione perché ci potrebbe essere molta volatilità magari se tutto andrà bene e quindi tutte le cose andranno a sistemarsi inoltre sia per ton ma anche comunque per bitcoin se andranno alte mai potrebbe dare interessante soddisfazioni ton ma questo non è detto perché se da qui bitcoin mi perde va ancora 50 e ci saranno ancora notizie negative per quanto riguarda ton possiamo tranquillamente andare anche a tre e mezzo quindi attenzione per quanto riguarda ton e parliamo anche di dogs la nuova meme coin lo andiamo a vedere sul time frame giornaliero perché è appena uscita quindi non c'è molto storico e tenetamente che dogs ha avuto molta volatilità dopo il suo tg e ha avuto anche un crollo repentino di oltre il 20 per cento in questi giorni e nonostante questa volatilità dogs mantiene una capitalizzazione di mercato di oltre 600 milioni di dollari e si assicura un posto tra le prime 100 cripto stanno scendo un sacco di cripto chiaramente ci sono migliaia migliaia di cripto e scegliere la cripto giusta non è per niente semplice tenetamente questa meme coin attualmente opera sulla blockchain di ton e offre utilità all'interno dell'ecosistema telegram premiando gli utenti attivi e di lunga data in base all'età e l'attività del loro account quindi ha uno scopo anche interessante e guardando anche il futuro il team di dogs prevede di introdurre funzionalità aggiuntive tra cui adesivi meme coniabili e contenuti personalizzabili che potrebbero aiutare a stabilizzare il valore della moneta ed espandere la sua utilità all'interno dell'ecosistema telegram molto molto interessante questa cosa staremo adesso un po' a vedere cosa vuole fare anche perché è poco storico e se vediamo sul time frame giornaliero ci stiamo stringendo vi faccio vedere coraggio quello che vi sto dicendo con la trend line qua ci stiamo andando avanti a stringere e quindi al momento secondo me non è più una questione solo anche di dogs ma anche di bitcoin staremo un po' a vedere se bitcoin dà un po' di gas per tutte le altcoin al momento comunque stiamo molto attenti su questi nomi nuovi perché rischiamo di farci molto molto male non hanno price action un anno storico e poi state attenti perché comunque il mercato è ancora molto molto incerto e rimane ancora molto fermo se andiamo a vedere un po' qualche al coin che mi avete segnalato andiamo a vedere solana su larga scala sul giorno vedete si trova in questo pattern vedete le trend line che ho tirato e ha perso un po' in questi giorni solana ha un po' di debolezza e secondo me se perdiamo queste zone possiamo anche andare a testare i 120 questa è una zona molto interessante abbiamo molta costruzione di prezzo quindi secondo me prossimo target a ribasso sono queste zone ma per vedere tutti questi nomi ritornare e salire serve un bitcoin veramente che sale va inoltre mai è inutile andare avanti vale lo stesso per cro vedete nome che al momento rimane ancora molto molto debole e quindi non è che c'è molto da fare se andiamo a vedere vedete tranquillamente quello che vi sto dicendo cro è un altro nome che se lo andiamo a vedere sul time frame settimanale si capisce bene la solfa a mio avviso se qui bitcoin non mi va inoltre mai questi nomi non si muovono quindi è difficile andarlo interpretare fate sempre comunque paragone della con di riferimento contro bitcoin per capire se è forte o no pepe un nome anche qui ancora troppo troppo debole al momento e quindi anche qui pepe rimane molto debole il supporto più importante questo ma se lo perdiamo poi abbiamo quest'altro supporto non ve lo sto a leggere perché ci sono un sacco di zeri potete leggere direttamente sul grafico e comunque vediamo che sta comunque seguendo un pattern di discesa sul time frame settimanale abbiamo anche render nome anche questo debole al momento vedete che comunque tutti questi nomi sono pressati a ribasso dalla ema 12 26 settimanale lo stesso vale anche per matic vedete tutti sotto l'ema 12 26 ma anche dot vedete quanto è debole dot vedete quanto è debole ada e vedete quanto è debole atom a me dispiace molto vedere che non arriva questa benedetta al con season che molti stanno cercando ma secondo me non è ancora il momento agosto settembre non sono i migliori momenti per quanto riguarda gli investimenti sia per quanto riguarda l'azionario ma soprattutto per le cripto abbiamo visto che bitcoin agosto settembre i dati storici parlano chiaro non andiamo molto bene molti si aspettano un rialzo per il quarter 4 quindi da settembre quindi da sbagliato da ottobre fino a dicembre e chiaramente ci vorrà ancora un po di pazienza chiaramente questo ciclo non è come i cicli precedenti e chiaramente sicuramente molto il coin non saliranno come dovrebbero come noi vogliamo perché molte volte noi giudichiamo le cose che succedono in base a quello che noi facciamo però non siamo molte volte oggettivi ma siamo comunque soggettivi su quello che facciamo la cosa importante è rimanere sempre tranquilli perché secondo me bitcoin avrà ancora molto da dare e se bitcoin non mi va inoltre mai sicuramente anche le altcoin non si muoveranno mi raccomando date un occhio anche al sito mindechart.io sito di news gratuite c'è anche la newsletter gratis basta iscrivervi noi stiamo dando tutti questi servizi per farvi rimanere sempre sul pezzo date un occhio tutti i link in descrizione perché troverete i migliori trading bonus sul mercato in italia che gli exchange ci danno per comunque farvi provare tutti gli exchange io con ciò vi saluto vi abbraccio e ci vediamo settimana prossima al prossimo cripto appuntamento